Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio telespettatori di Telequattro, benvenuti a un appuntamento con Trieste in diretta, l'appuntamento del venerdì. Nella seconda parte concluderemo la visita alla mostra delle sculture che è allestita al Museo Revoltella. In questa prima parte, sapete di venerdì in genere ci occupiamo sempre di cultura e di spettacolo, siamo in compagnia di Alan Viezzoli, nostro amico e collega con il quale parliamo di cinema, partiamo dalla notte degli Oscar. Vorrei specificare, perché magari si è visto prima, ecco qua, non è che piova dentro e che ci siamo attrezzati, è che semplicemente, e vi chiedo scusa, c'ho ancora questo fastio, che fra l'altro però mi pare abbia preso parecchia gente. Ho sentito sì, tanta gente con il tuo stesso problema. Ieri al Politeamo Rossetti c'era un concertino, non da poco all'inizio del loro spettacolo, ma insomma si è andate avanti fino alla fine. Allora, partiamo dagli Oscar, partiamo dai verdetti dell'edizione numero 95, che sono, ne discutevamo anche l'altro giorno, sono verdetti fondamentalmente abbastanza annunciati. Sì, decisamente sì, credo che non ci sia stato niente di diverso da quello che erano i pronostici. e sì, non c'è molto da dire, nel senso, Everything Everywhere o Latouance ha preso sette statuette, oltretutto da quello che ho sentito è stato il primo film nella storia degli Oscar a vincere le, diciamo, sei statuette principali che sono film, regia, sceneggiatura e tre attori principali. Sì, quella sui tre attori credo che era dai tempi di un Trump che si chiamava Desiderio, che non c'era questa tripletta dei tre attori. Esatto, però anche se si chiamava Desiderio non aveva preso né film né regia né sceneggiatura. Ci sono cinque film che hanno preso i tre grossi più due per gli attori, i tre grossi più tre attori a quanto pare questo è il primo. Scusa, c'è Voglia di Tenerezza? No. Adesso guarda, mi sfuggo. No, perché Voglia di Tenerezza c'era Nicholson come miglior attore non protagonista. Forse accade una notte. Potrebbe essere, ma ammetto che non... Forse accade una notte aveva sceneggiatura, regia, film e i due attori protagonisti. Potrebbe, sì, guarda, in questo momento ammetto che la lista mi sfugge, ma insomma sì. Ed era anche, scusa anche se ti intrompo, era anche parecchio tempo che non c'era un film che si portasse a casa un numero abbastanza congruo di statuette, perché nelle ultime edizioni ci sono tre, quattro... Sì, esatto, erano abbastanza spalmate tra i film. Sette è un numero notevole. Sette è decisamente un numero notevole, tanto più che poi solo altri due film hanno preso più di una statuetta, che sono Niente di Nuovo sul fronte occidentale, che ne ha vinte quattro, e The Way, che ne ha vinte due. Tutti gli altri con una? Tutti gli altri con una, tutti gli altri vincitori ne hanno presa una sola. Sì, questo è anche strano. Quindi effettivamente c'è stato un po' un accentramento quest'anno rispetto agli anni scorsi. Si può parlare di grande sconfitto per Spielberg? Decisamente sì, decisamente sì, anche perché è veramente rimasto totalmente a mani vuote. e credo che un po' tutti noi speravamo che almeno qualcosa andasse a Spielberg, magari alla regia, se non altro, e invece a quanto pare l'Academy si è innamorata di questo film, di questo Everything Everywhere, la Twance, non si capisce bene perché, secondo me, e quindi ha deciso di veramente andare all in quasi. Ma c'è qualche cosa di italiano che ha a che fare con questo film? Il nome della casa produttrice, A24, è proprio l'A24, l'autostrada, perché esatto, perché i fondatori dell'A24 effettivamente hanno avuto l'idea del nome o del creare la casa di produzione, effettivamente mentre stavano percorrendo l'A24, quindi sì. Se dovevano percorrere la Salerno Reggio Calabria, quel cavolo che davano un nome, e quindi è fortuna che percorrevano quella strada là. Esatto, anche perché la Salerno Reggio Calabria film production diventava un po' lungo. Ma a te il film non ha entusiasmato? No, ammetto di no, sono sincero, l'ho trovato veramente un polpettone, estremamente lungo, molto molto confuso, secondo me ha anche proprio dei problemi di scrittura, nel senso che sono convinto che andando ad analizzare il piano del cattivo le cose non funzionino. Poi così tanto, quindi sì, l'ho trovato, certamente è per certe cose originale, però l'originalità si ferma subito e il resto del film galleggia in qualcosa di o già visto o che gira troppo attorno a se stesso. Ma per esempio si sa che Hollywood comincia a innamorarsi, quando si innamora di determinati progetti appunto non li molla più, li corteggia, eccetera. Adesso so che è una brutta domanda, ma insomma qua possiamo ancora farla. La componente asiatica del film, non è inutile andare, può aver avuto qualche ruolo in questo innamoramento, eccetera, oppure alla fine non è tale da giustificare? Ti dirò. Perché da quel punto di vista quando potrebbe dire, beh, ma però Hollywood ha già premiato e lì secondo me meritava molto di più parasite e quindi da quel punto di vista ha la coscienza a posto. Certo, allora, posto che questi sono temi che ritornano ciclicamente ogni anno, perché comunque poi c'è la componente asiatica, la componente di colore, la componente femminile, che sono tutti temi ovviamente interessanti e su cui effettivamente mettere il dito, però insomma le polemiche si sprecano. E' effettivamente interessante come tutto sommato negli ultimi anni ci sia stato un po' il guardare di Hollywood verso effettivamente quella zona lì. Penso a Parasite che aveva vinto anche la migliore film, migliore regia. L'anno dopo. E l'anno dopo vinse Chloe Zhao con di nuovo un film statunitense come Nomadland, ma che comunque era girato da una regista asiatica, un po' come questo, che è un film statunitense a tutti gli effetti, però il cast e credo anche uno dei due registi hanno poi origini asiatiche. Oltretutto a discapito di film come The Famous Man, che va bene, fatto da Spielberg, che è effettivamente statunitense, però anche di film come Elvis, che è proprio un'icona, cioè proprio lì parliamo degli Stati Uniti nella sua praticamente riconoscibilità ovunque, perché Elvis è proprio una delle icone degli Stati Uniti, e se vogliamo anche di Top Gun Maverick, che è un po' l'immagine che gli Stati Uniti hanno nel mondo, insomma. Però adesso, l'altro giorno mentre ne parlavo, Bernardo Gullotta scoppiato in una risata, io trovo adesso Top Gun, ribalto la... è grande cinema, perché è cinema allo stato, verrebbe a dire, allo stato selvaggio. Però è un film inutile, cioè non aggiunge nulla nemmeno al nostro immaginario collettivo, non aggiunge nulla alla carriera di Tom Cruise, se non appunto un ulteriore grande successo. È uno di quei film di fronte ai quali rimani, non perplesso, perché se un film piace... però poi se lo analizzi dopo dici, ma non ho visto niente in pratica. È vero, però forse c'è un po' bisogno anche di quel tipo di film lì, cioè nel senso quei film che effettivamente sono dei filmoni che non ti raccontano niente di particolare, che sono anche abbastanza prevedibili, perché alla fine, quando cominci a vederlo, sai che lui ritroverà il figlio, sai che poi faranno la pace, esatto, all'inizio sono in lotta, poi faranno la pace, poi ci sarà la missione che starà per fallire, ma all'ultimo qualcosa succederà, per cui la cosa si risolverà bene, eccetera, eccetera. Però effettivamente, però è buon cinema, rispetto a tanti altri film che magari cercano anche un po' di fare la stessa cosa fallendo miseramente o essendo brutti, questo qui è veramente del buon cinema che funziona e tant'è che Spielberg, credo una o due settimane fa, ha detto a Tom Cruise, ha ringraziato Tom Cruise dicendo hai salvato il cinema in sala, perché effettivamente con il successo che ha avuto Top Gun Maverick, insomma, la sala si è un attimo ripresa. Jimmy Kimmel, il presentatore della serata, ha ironizzato non poco sull'assenza di James Cameron, perché non c'è, ecco, lì c'è anche un'altra cosa per la quale io sarei anche un po' preoccupato se fossi, cioè che Avatar ha, come dire, non ha preso nemmeno, ha preso solo un premio tecnico, ma ha, come dire, non ha preso altri premi tecnici che ci si aspettava potessero andare a lui, invece sono andati ad altri film, insomma, quindi anche lì, ma lì forse c'è anche, adesso lo dico, un senso quasi di, probabilmente Cameron non è dell'establishment e quindi viene, cioè adesso diciamo la verità, quando vinse dieci anni, cos'era, no, più di dieci anni fa, la Bigelow, è logico che fecero vincere lei per non far vincere Avatar il primo, adesso questo è inutile andare a nascondere Sì, è abbastanza palese. Però è strano che, ugualmente, insomma, un film che, diciamo la verità, vive della sua tecnologia, poi prenda uno solo, cos'era, forse, effetti speciali proprio, mi pare neanche il sonoro, perché il sonoro penso che... No, 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 esatto, il sonoro è andato a Top Gun Maverick. Ah, ecco, sì. Allora, una delle ipotesi che abbiamo fatto, che, insomma, si fanno, che abbiamo fatto anche noi, e che potrebbe essere che l'Academy aspetti il terzo Avatar, un po' come era successo con Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, che in cui i primi due film erano stati praticamente snobbati agli Oscar e poi, quando è uscito il terzo, si è andati a premiare quello. Perché è stato premiato in tutte le categorie per cui era accorso. Sì, praticamente in tutto, ha preso 11, se non 11 Oscar, 10, insomma, comunque un numero a due cifre e praticamente è stato premiato su tutto, quasi come se fosse una sorta di riconoscimento del lavoro complessivo, mettiamola così. Visto che comunque del seguito di Avatar si parlava già ai tempi del primo Avatar, semplicemente non si è fatto all'epoca perché James Cameron disse che non c'è la tecnologia per farlo, si è lui inventato una tecnologia, si è inventato una tecnologia per poter fare le riprese 3D, Subacqua, eccetera, eccetera, e il film è uscito oggi. Quindi vediamo magari il prossimo anno, fra due anni, adesso non so quando uscirà il terzo, se magari effettivamente ci sarà questa riscossa in qualche maniera o riconoscimento, oppure se effettivamente all'Academy proprio non è piaciuto il progetto in sé e quindi basta. Ho preso la sedia che protesta. Invece, per esempio, nel corso della serata, fino ad un certo punto, molto spesso succede, c'è il film Outsider, che quest'anno è stato sicuramente all'Ovest... Niente di nuovo sul fronte occidentale. Sì, credo di sì, esatto, sì. Tra l'altro, chi non l'avesse letto, io colpevolmente l'ho letto appena in questi giorni, proprio per vedere il film, bisogna leggere il libro perché è splendido. Sì. Ha anche 200 pagine, quindi... Anche perché poi mi pare che il film lo maneggia abbastanza e non benissimo, per cui effettivamente forse merita leggere il libro. Ecco, ma quello poteva essere un Outsider, sembrava lo fosse. Sembrava lo fosse, sì, effettivamente, anche lì, onestamente, temo che dietro ci sia stata la forte spinta Netflix, perché il film è un film di Netflix, che evidentemente ha visto che il film, anche qua, piaceva e quindi hanno deciso di spingerlo, forse anche più del necessario, anche perché francamente ha vinto un paio di premi come la fotografia, esatto, che tutto sommato rispetto agli altri nomi coinvolti era abbastanza una fotografia standard di Netflix, se vogliamo, che è un po' quella cosa fatta con lo stampino, magari, non ti dico imposta dall'alto, ma insomma fortemente consigliata dall'alto, non negoziabile, esatto, a discapito di, anche là, un bardo che magari era di nuovo un prodotto Netflix, che però aveva dalla sua una fotografia molto più interessante, molto più autoriale, se vogliamo. Anche la colonna sonora è stato un po' un colpo di scene, perché lì si poteva anche, anche là, forse parecchi si aspettavano anche John Williams, se non altro, per il fatto che di nuovo, non ne ha bisogno, ma di nuovo nominato, eccetera, invece anche lì vinse. Sì, o anche la scenografia, che tutto sommato, insomma, siamo in un periodo di guerra, ci sono tutti con le divise. Basta venire qua in Porto Vecchio, in una parte, e trovi anche tutto pronto. Esatto, esatto. Non occorre neanche fare tanti scorsi. No, nel senso, cioè, nel senso, poi, per carità, effettivamente c'è stata la bella ricostruzione degli ambienti, però, insomma, proprio da andare a premiarlo per la fotografia, per la scenografia, per la colonna sonora. Uno di quei pochi casi in cui un film non inglese, non in lingua inglese, viene candidato anche per miglior film, come successa La vita è bella, invece Parasite vinse anche come si chiama, niente di nuovo sul fronte occidentale, ha vinto anche i BAFTA, quindi anche lì era un, cioè, sembra, però dopo, in genere, quando il film Everything in Everything ha vinto per la miglior sceneggiatura, lì si era capito che ormai la serata prendeva un'altra... Esatto, sì, sicuramente, esatto, quello è stato un po' lo spartiacque, si sperava, appunto, come dicevo prima, che magari la regia andasse a Spielberg, e invece poi no, è stato... Senti, io ho trovato agghiaccianti quattro delle cinque canzoni nominate, meno quella che ha vinto, almeno era divertente, ma erano anni che non ricordo, anche Lady Gaga, che comunque... esatto, però era sulla falsa riga di, come si chiama, Swallow, quello di... Star is Born, sì. Sì, quest'anno sono state quattro, cioè, tolta quella che ha vinto, le altre quattro sono state canzoni molto deboli per quanto mi riguarda e soprattutto quella che ha vinto è l'unica canzone delle cinque nominate che è integrata nel film, perché tutte le altre sono le canzoni da titoli di coda, che è un po' facile, nel senso, prendo Lady Gaga, le dico, fai una canzone a caso, la metto sui titoli di coda e la sfango così, è un po' facile, tutto sommato, per quanto il film indiano sia un po'... Anche questo è su Netflix. Sì, esatto, però almeno ha dalla sua che quella canzone era effettivamente... Ha fatto un po' di spettacolo anche. Ha fatto spettacolo, è integrata nel film, è un momento chiave della pellicola, insomma, comunque, sì, un minimo di onestà, se non altro. Senti, sugli attori? Beh, allora, io sono super contentissimo per Brendan Fraser, ovviamente, perché, insomma, facevo il tifo per lui, ho amato The Whale, speravo che The Whale avesse almeno la nomination come migliore sceneggiatura non originale che non ha avuto, perché lì c'è stato probabilmente il film paga le polemiche forti che ha avuto negli Stati Uniti, perché è stato accusato di raffigurare in maniera cattiva le persone obese, che non è assolutamente vero, anzi, è assolutamente un atto d'amore verso le persone che sono appreso. Loro fanno quelle trasmissioni abominevoli, tipo, non mi ricordo come si chiama, che vanno del Dottor Nosara, Dani, quello va bene. Esatto, sì, no, queste sono veramente state delle polemiche tretestuose al massimo, infatti sono super contento che sulle tre nomination che era riuscita ad avere il film ha portato a casa due statuette, quindi, appunto, super contentissimo per Brendan Fraser, il rivale diretto era il ragazzo, adesso ti dico il nome, Austin Butler, grazie, che interpretava Elvis, che effettivamente anche lì, il primo interpretazione era assolutamente eccezionale. Io ti favo Colin Farrell, se devo essere sincero. Ci sta, no, no, ci sta, anche perché il film è meraviglioso, mi dicevi prima fuori onda che dovrebbe passare adesso. Deve essere su Disney, mi pare, dal 20, dal 20 di… Io consiglio, se non l'avete visto, di vederlo in lingua originale, perché ha tutta quell'ironia tipica irlandese, che per quanto tu possa fare il doppiaggio più bello del mondo, comunque non riuscirai mai a… Esatto, è proprio impossibile da accogliere, bisogna vederlo in originale. Quindi effettivamente ci stava anche lui. Cosa altro dire? Le attrici, io francamente, per quanto non mi sia piaciuta la sua interpretazione, mi sarei aspettato l'Oscar a Anna de Armas per Blonde, per aver fatto Marilyn Monroe. Anche là, altro film estremamente penalizzato agli Oscar, perché credo che un paia solo che è in questa categoria qui, di nuovo perché anche lì è stato accusato di misoginia negli Stati Uniti e quindi allora si nasconde la cenere sotto il tappeto, come sempre, però effettivamente un'interpretazione così non si poteva non andare almeno a candidare come miglioratrice. Tutto sommato l'avrei visto meglio che Michel Lio, perché insomma, secondo me comunque c'è un lavoro sotto più forte. E sugli altri due ti dirò, il miglior interprete maschile non protagonista. Beh, lì c'era Brendan Gleeson, esatto. Si, si poteva anche. Però lì sono quelle storie di riscatto, di quello che sono anche piacciono. Ogni tanto, io sono contento per Jamie Lee Curtis, perché lì premi la carriera. Esatto, sì, esatto. Lì premi la carriera. Come si diceva, forse l'avevo già detto la volta scorsa, la paragono un po' a Di Caprio, quando ha vinto l'Oscar per Ravenant, che secondo me non è per niente il suo miglior film degli ultimi tempi. Ma Ravenant è un film molto migliore del libro da cui è tratto. Ok, questo non ammetto che... Però comunque ha avuto performance molto migliori e quello mi è sembrato quasi una sorta di contentino. E mi sembrava un po' questo, anche perché secondo me l'altra attrice asiatica che si chiamava Stephanie Su... Sempre dello stesso film. Sempre dello stesso film. Proprio da un punto di vista attoriale, in quel film lì, secondo me è molto migliore. Perché la ragazzina, caspita, fa una parte molto forte. Io credo che nemmeno Jamie Lee Curtis tanto ci credesse, perché il Golden Globe lo vinse la Angela Bassett per Wakanda Forever. Credo che, non mi ricordo chi vincesse, chi abbia vinto il BAFTA, ma non comunque Jamie Lee Curtis. Quindi secondo me è stato qualcosa che è arrivato negli ultimi... con questi benedetti Saga Awards, che sono la cartina di Tornasole. Sempre per quanto riguarda gli attori, il fatto che non ci fosse il grande divo candidato, eccetera, credo in nessuna delle categorie. Forse la Blanchett può essere definita una diva a suo malgrado, nel senso che lei non ha nessuna voglia. Può avere un pochettino reso meno interessante la gara? Allora, in realtà forse, ti direi paradossalmente, è la resa più interessante. Proprio perché non c'era il grosso nome, io per esempio mi sarei aspettato di trovare Tom Hanks, candidato per il colonnello Parker, in Elvis, per esempio, cosa che invece non è successa. Quindi forse il fatto di avere personaggi, tra virgolette, minori, comunque parliamo di grandi star, ma insomma appunto senza esserci quel nome su cui si puntavano i riflettori in maniera netta, per cui non c'era storia, diciamo così, il fatto di avere effettivamente dei nomi un po' minori ha reso più interessante tutto quanto. C'è un'altra discussione che noi facciamo ogni tanto in redazione e riguarda proprio il, come posso dire, il ruolo che l'Oscar può avere nella carriera di un attore. Io ho detto, se noi prendiamo gli attori che hanno vinto l'Oscar nelle quattro categorie attoriali degli ultimi vent'anni e alcuni di essi sono fuori portata dai radar, nel senso non li senti più. Cioè, voglio dire, in alcuni casi anche i non protagonisti poi dopo li sfrutti nei ruoli da non protagonisti. Ma insomma ci sono degli attori, come si dice, protagonisti che sono spariti, insomma, o comunque fanno, penso la Bullock. La Bullock in dieci anni, credo, siano passati da quando vinse, avrà fatto, si è noto, i film. Citavi l'altro giorno Rami Malek che ha vinto l'Oscar per Bohemia Rhapsody ed è praticamente sparito a gelù. Cioè, non lo so, c'è qualcosa di strano? Sì, ammetto che questo è qualcosa di difficile da leggere per quanto mi riguarda, nel senso che effettivamente non riesco a capire dove sorga il problema. Cioè nel senso se effettivamente si scontrano contro una bulimia di sceneggiature per cui a quel punto non sai più cosa scegliere, se invece effettivamente l'Oscar ha perso un po' di rilevanza dal punto di vista del casting. Magari resta grosso come nome per appunto quando metti i cartelloni e dici il premio Oscar. Poi oltretutto vedi quelle cose che trovo un po' su. Naturalmente dici, vabbè, però non la vinto. Però non la vinto, sì, sì. Vabbè, quindi restano un po' su quella cosa lì, però magari nel fare il casting si tende o che magari loro alzino di più il premio, per avere, forti di aver vinto l'Oscar magari alzino il premio. Non lo so, non so. Io ho una mia teoria che deriva da un'intervista che ho visto su, adesso su YouTube si trovano anche le interviste vecchie e ho visto una vecchia intervista con Bette Davis che all'epoca fu una di quelle che combatterono contro il sistema degli studios, eccetera. Ma lei a un certo punto disse io quasi quasi ho rivisto le mie posizioni perché in fin dei conti gli studios ti proteggevano. E quindi dice sì, ti facevano fare una serie di film dei quali poi sulla cui qualità potevi anche essere in disaccordo, eccetera. Però difficilmente ti facevano fare un film in perdita. Certo. E forse adesso anche con il fatto che non esiste più il produttore puro perché con la scomparsa di Walter Meirisch penso che sia andato l'ultimo. Non esiste più il produttore puro. Questi possono con i soldi che introitano, possono produrre quello che vogliono, si innamorano di libri, soggetti particolari, eccetera. E forse non hanno la guida. Probabile sì, è possibile in effetti. Poi oltretutto con di nuovo la quantità di film che escono continuamente, anche nel momento in cui vai a fare il flop, cinque minuti dopo ce lo siamo già dimenticati. Non è che poi, cioè una volta si diceva, eh però l'ultimo film che ha fatto, adesso non ti ricordi neanche più cosa è successo. Il flop di Babylon può permettersi senza essere coinvolto perché fra l'altro, come sempre detto, è un film dell'autore di La La Land, non dicono che ce l'ha detto anche lui. Infatti, però voglio dire, fra due mesi di Babylon nessuno ne parla più e c'è di nuovo il grande film con Brad Pitt. Che tanto gira con clune in questo periodo per cui c'è da aspettarsi. In questo panorama, il cinema italiano come si mette? Io avevo detto subito, tu non puoi candidare con tutto il rispetto un film come nostalgia, già per il titolo, non puoi candidarlo all'Oscar. Non so, ci sono anche scelte molto sbagliate da quel punto di vista, che non considerano che cosa significa, o perlomeno, che non considerano che cosa significa l'Oscar al film straniero in un contesto già strano di per sé come quello dell'Oscar. Certo, ma infatti una delle, non neanche polemiche, delle discussioni che sentivo fare recentemente proprio sull'Oscar al miglior film straniero è il fatto che tutte le nazioni in realtà vadano a selezionare con il gusto della nazione stessa un film che poi dovrà essere valutato con il gusto degli statunitensi. Sì, quindi sì, è veramente strano e d'altra parte devi fare una scelta e chi fa quella scelta? Perché è sempre lì il punto, chi va a decidere quale film viene mandato? Il conto mio dovrebbe essere automatico, senza fare tante commissioni. Il film che vince Davide Donatello va all'Oscar come il film, adesso si parva l'Icet, come il film che vince, come la canzone che vince il festival di Sanremo va all'Eurofestival, adesso tu devi fare... Ci sta, no, effettivamente, come idea, effettivamente togli... Ma qua c'è bisogno della commissione selezionatrice, di quelli che decidono, quindi... No, no, è chiaro, ovvio, però, sì, ripeto, non credo che comunque d'altra parte sia molto più semplice, ecco, decide. Poi è chiaro, hai l'anno in cui, che ne so, la Germania vince la Palma d'Oro, allora è chiaro che mandi quel film lì, perché evidentemente è un film che è piaciuto a livello internazionale e quindi lo vogliamo andare. Sono sempre i primi in testa al numero di film stranieri vinti dalle nazionali, quindi questo è piacevole. Indubbiamente, il punto è riuscire magari l'anno scorso, l'anno scorso, l'anno prossimo, gli anni prossimi a trovare qualcosa che almeno arrivi in cinquina, perché se ricordo bene è parecchio che noi non finiamo in cinquina neanche. L'ultimo è stata la Mano di Dio, di Sorrentino, quindi due anni fa, l'anno scorso, però comunque c'è stato un periodo, tra uno e l'altro, anche perché poi è un problema che si ripercuote anche nei festival Cannes, Venezia e Berlino. Senti, già che ci siamo, Cannes? È tra poco, sì, è maggio, quasi, adesso ci stiamo un attimo organizzando. Ammetto che non so niente di anteprime, cioè nel senso, da Cannes non è uscito niente di ufficiale, si sa solo che Oslund, che è il regista di Triangle of Sadness, che era uno dei registi candidati. Non è piaciuto, devo dire la verità. A me non piace quel tipo di comicità, però mi rendo conto che… Trovavo, adesso per fare quelli che parlano bene, eccetera, ci ho visto qualche cosa di l'angelo sterminatore, cioè quest'idea di una sorta di punizione per una casta… dove… ci vedevo quello. L'abbia il fatto meno comico, anzi l'avrei fatto un po' meno cinepanettone in certi momenti, però capisco la cosa. Quindi sappiamo che lui è il presidente della giuria e di ufficiale credo non si sappia nient'altro e ammetto di non aver seguito rumors. Per esempio, tu che più di tutti noi frequenti, il presidente della giuria ha un peso anche all'interno della giuria oppure molto spesso è solo un nome che viene speso per… Guarda, dovrebbe, in realtà è tanto diverso da anno in anno e da giuria in giuria. Nel senso che io so di anni in cui il presidente di giuria si è impuntato e quindi magari ha spinto, così fosse una parola ai giurati, ha praticamente convinto gli altri ad andare verso il fin che piaceva a lui. Ci sono stati anni in cui è stato superdemocratico e in cui ha detto facciamo che uno vale uno e si vota e basta. Ci sono addirittura anni in cui nonostante i mille tentativi non si sono riusciti a mettere d'accordo e praticamente si sono divisi i premi. Cioè nel senso che hanno detto, tu premi… Sì, 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 dipende anche da… Dipende tanto da, secondo me, proprio dal carisma che riesce ad avere la persona. Se… Moretti racconta sempre che lui quando ha fatto il giurato a Venezia, il presidente di giuria a Venezia, ha imposto tutta una serie di regole ferre, strettissime, agli altri giurati dicendo non si fa questo, non si fa questo, non si fa questo, perché voleva essere il più imparziale possibile. Dipende tanto dalla persona a persona. Io credo che tendenzialmente i festival non spingano i giurati a comportarsi in una maniera rispetto all'altra e quindi tanto dipende appunto dal polso del giurista. Io so di cose vecchie, nel senso Kirk Douglas che impose l'ex-sequo a Cannes, per cui venne premiato Kagemusha, ex-sequo con All Dead Jet di Scorsese e di Bob Fosse, perché doveva esserci anche un americano, allora già morò arrabbiata. Ingrid Bergman scandalizzata dalla grande abbuffata di Marco Ferreri, che sembra che qualcuno lo volesse, che impose l'ostracismo assolutamente. Vedi, dipende, poi appunto gli aneddoti, questo tipo di aneddoti è pieno alla storia. Io credo che Brunetta abbia scritto questo libro enorme sulla mostra del cinema di Venezia, dove ci sono anche queste camarille. Esatto, sì, perché poi ovviamente anche il libro di Thierry Fremaux, che è il delegato di Cannes, praticamente racconta un anno da quando finisce un festival di Cannes a quando finisce l'edizione dopo. e la parte dei giurati, lui dice, ti racconta tutto, perché ti racconta dove li portano, come li portano, e però quando dice, e nel momento in cui decidono, la si ferma e non ti racconta niente, perché dicendo, lo sappiamo, loro sette, io, il presidente e basta, non lo sa nessun altro. E fra l'altro, per chi fosse interessato, è uscito un libro italiano molto bello, molto divertente, sto leggendo in questo periodo, si chiama La bella confusione, racconta la storia delle riprese parallele di Otto e mezzo e Il gatto pardo, e racconta anche questa, diciamo, come si può dire, la lite fra Fellini e Visconti, con Poverina e la cardinale in mezzo, ma è un film, è un libro in realtà che parla di tutto il cinema, anche precedente, e quindi un libro veramente molto, molto godevole, è in Audi e l'autore è Francesco Piccolo. Noi siamo arrivati alla fine della, alla fine della puntata, uscite, mi pare che in queste settimane non è che ci sia tanto all'orizontale. No, devo dire che di film grossi non c'è quasi niente, ci sono un po' di supereroi sparsi, classico, c'è qualche film che arriva da Berlino, perché adesso è uscito L'ultima notte di amore, cresce, le mura di Bergamo, però poi sì, tutto sommato di grossi film, molto tranquilli. Allora, Alan, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi. Una poltrona per uno. Una poltrona per uno, il venerdì in replica il lunedì alle ore 13 su Radioattività. Dopo la pubblicità, l'appuntamento con Trieste d'arte, chiudiamo la visita alla mostra dedicata alle sculture del Museo Revoltella. Buon proseguimento e arrivederci, Trieste in diretta torna martedì della prossima settimana alle 18.